Lea guarda anche Expo 2015, la regione toscana si affaccia a questa grande manifestazione mondiale, però vuole avere un ruolo da protagonista? No, penso che Expo o ha ricadute anche sul territorio e non solo a Milano, oppure è un'occasione che l'Italia perderà. Io credo che questo sia un obiettivo di tutti, deve apparire e deve essere concretizzato come obiettivo di tutti, per cui il lavoro che stiamo facendo va in questa direzione nei rapporti con Expo, continueremo a farlo con un'idea, che la Toscana vuole tentare di esserci in questo percorso che è offerto al mondo, con un'opportunità per tutto il mondo, per la nostra storia, per un po' di nostalgia sicuro, ma perché partendo da questa nostalgia e vedendo in essa il trampolino per parlare di investimenti e di futuro, perché siamo in questa condizione e quindi dobbiamo soltanto lavorare, di nuovo lavorare insieme come sistema toscano e non come singole realtà fra loro contrapposte e litigiose, ma insieme a costruire e collaborare per raggiungere questo obiettivo che, ripeto, è alla nostra portata, è proprio vicino. Grazie.